Ciao a tutti, oggi prepareremo l'aperitivo al melograno portafortuna. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Ingredienti sono scorza d'arancia, zucchero, cubetti di ghiaccio, chicchi di melograno, spumante, acqua, gran barnier. Diamo il via alla ricetta. Mettere nel boccale la scorza d'arancia e lo zucchero. Ne lo facciamo polverizzare per 20 secondi a velocità a 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i chicchi di melograno, il ghiaccio ed azionare il bimbi per 30 secondi da velocità 3 a velocità 10. Aggiungere lo spumante. il ghiaccio ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 3. l'aperitivo è pronto. Filtrare con un colino a maglie strette. Aperitivo al melograno portafortuna. Grazie e alla prossima ricetta. Aperitivo al melograno portafortuna. Grazie a tutti. Grazie a tutti.